amici di youtube bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabio ambrosi.it quest'oggi vedremo come esportare da adobe premiere pro un audio con più tracce ok quindi quando vedete un film che ci sono più canali audio oggi vedremo come fare con premiere pro iniziamo subito abbiamo solo tre minuti quello che vogliamo creare in questo mini tutorial è qualcosa di simile al al video che vedete davanti a voi apparentemente non c'è niente di anomalo ma se aperto con un qualunque software nel mio caso vlc e se andiamo ad esplorare le tracce audio presenti all'interno di questo file video noteremo che ci sono tre tracce audio è un po quello che accade quando guardate un film con più più audio con più lingue bene come creare qualcosa di simile in premiere però bene intanto dobbiamo creare una nuova sequenza che possa ospitare un audio un audio master multi canale creiamo la sequenza dando un nome a nostro piacimento le impostazioni che già sicuramente sapete dare ma concentriamoci sulla tab chiamata tracce qui possiamo scegliere quante tracce video creare di default possiamo sempre aggiungerne poi in un secondo momento ma soprattutto quante e quali tracce audio creare di default allora io non voglio otto tracce audio di default ne voglio soltanto tre per l'esempio che sto per fare quindi seleziono le tracce in eccesso e clicco sul bottoncino meno ho solo tre tracce audio o meglio avrò solo tre tracce audio nella sequenza che sto creando ma la cosa importante è l'impostazione del master ovvero l'audio di output come deve essere considerato di default stereo quindi con due canali uno per la parte sinistra uno per la parte destra io cambio questa impostazione cliccando su multi canale questa impostazione indica che il master audio del della sequenza non avrà solo due canali ma ne potrà avere molti di più ora se io voglio esportare tre tracce stereo nel master una traccia stereo è composta da due canali uno left e uno right quindi per esportare in tutte e tre le tracce sul mio file finale dovrò impostare come output della mia sequenza il numero di sei canali audio prima di cliccare su ok devo mappare le tracce audio della mia sequenza cosa vuol dire vuol dire che l'audio audio 1 deve finire sulla prima traccia del del mio output del mio master audio e in particolare sul canale 1 e sul canale 2 stessa cosa per quanto riguarda l'audio 2 solo che invece di finire nella traccia 1 che ospita il canale 1 il canale 2 l'audio 2 dovrà finire sulla seconda traccia che ospita il canale 3 e il canale 4 faccio la stessa identica cosa con l'audio 3 mappando il nostro la nostra terza traccia sui canali 5 e canali 6 clicco su ok ora porto dentro del materiale e guardate cosa accade sul meter tre minuti per parlare dell'effetto neri i tre canali audio sono stati inviati alle tre tracce di output della mia sequenza perfetto come esportare questo in un file bene vi informo intanto che in premier pro è possibile esportare degli audio multitraccia solo utilizzando quick time come export come contenitore e utilizzando ad esempio un codec come l'apple pro race 422 o almeno questo è quello che utilizziamo quest'oggi se volete esportare un mp4 h264 il procedimento è diverso e dovete utilizzare altri software come handbrake o motori come ffmpeg impostato il mio codec il mio contenitore vado sulla tab audio e qui vado a specificare quali tracce audio devono finire nel mio file di output quindi la prima che ospiterà i canali 1 e 2 la seconda stereo mi raccomando che ospiterà i canali 3 e 4 e la terza anche la stereo che ospiterà i canali 5 e 6 quando andrò a esportare un file del genere avrò quello che avete visto all'inizio di questo video tutorial quindi un audio multitraccia finisce qui questo mini tutorial di tre minuti firmato fabbiambrosi.it vi invito ad iscrivervi a questo canale youtube per avere maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati accendete le notifiche mi raccomando per richieste di nuovi tutorial scrivete all'indirizzo tutorial chiocciola fabbiambrosi.it ciao e al prossimo video